Le previsioni per domenica 8 settembre 2024 di Globus Television. Domenica, prevale l'anticiclone africano sulla regione. Giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Il sole splenderà indisturbato in un cielo sgombro da nubi temperature massime fino a 37 gradi sulla. Costa Ionica, minime stazionarie, mari, martirreno poco mosso, marionio mosso, stretto di Sicilia mosso.